Potenziare ed accrescere la produzione olivicola nelle colline del territorio marchigiano. E' questo l'obiettivo del progetto OliveJet. L'iniziativa ormai nata da diverso tempo prosegue a gonfie vele. Mercoledì 31 maggio presso l'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro si è svolto un seminario per fare il punto sui nuovi impianti di olivo. Questo seminario è un focus su una parte del progetto che riguarda i nuovi impianti che sono stati realizzati e che saranno realizzati all'interno del progetto. Nuovi impianti di olivo in cui c'è una grande attenzione nella valorizzazione delle varietà locali, in particolare la raggiola. Sono stati progettati dei nuovi impianti, in particolare qui nella scuola abbiamo l'impianto che è una parte con una densità diciamo media, mentre poi ci sono dei filari con l'alta densità. L'alta densità non è sinonimo di un'olivicoltura non rispettosa dell'ambiente o per prodotti di bassa qualità, ma che è semplicemente un'altra modalità di fare olivicoltura che permette una riduzione dei costi, soprattutto per quanto riguarda la raccolta, perché può essere fatta con la macchina scavallatrice, quindi veramente costi molto ridotti e tempi molto ridotti. In questo modo è possibile fare addirittura una qualità anche migliore, perché la raccolta è molto più rapida, si evita il calpestamento a terra dei frutti e i frutti vengono immediatamente e velocemente portati al frantoio. Un nuovo impianto, spiega Veronica Giorgi, con un basso impatto ambientale. Il progetto OliveJet, giunto ormai al quarto anno, diventa così una parte innovativa e importante del piano studi dell'Istituto Agrario Cecchi di Pesaro. Noi abbiamo partecipato come istituto già dal primo anno di progettazione e di costituzione del gruppo operativo. Poi ovviamente è arrivata la triennalità, il progetto operativo e le fasi di attuazione, a cui ovviamente i nostri docenti e studenti hanno sempre partecipato e questo praticamente dovrebbe essere oggi il risultato finale, il report finale dove vi illustreremo sia la parte che riguarda la qualità degli oli, le analisi degli oli, sia la parte dei nuovi impianti. Presente anche il consorzio DOP Cartoceto che è capofila del progetto OliveJet. L'olio DOP Cartoceto è un'eccellenza del territorio che, come tutte le eccellenze del territorio, con i prodotti DOP e GP delle Marche, sta facendo da volano per tutto l'agroalimentare marchigiano e lavorare in collaborazione con i CIC, con l'Università Politecnica delle Marche, è un onore e un aiuto per far crescere l'agricoltura e portarla nella modernità. Siamo in una situazione in cui serve innovazione, ma anche valorizzazione dei prodotti locali. Questo deve essere comunicato anche ai ragazzi, perché gestire una propagazione del genere significa cambiare anche la propria visione di potatura, irrigazione e gestione della nutrizione della pianta stessa. Progetti come questo possono permettere poi di arrivare fino agli agricoltori. Tecniche culturali e non solo, importante è anche l'aspetto paesaggistico all'interno del progetto OliveJet. L'aspetto paesaggio è importante in uno studio che riguarda l'olivicoltura. Capire come è cambiata, come si sono trasformate le varie tipologie, quindi le varie forme di paesaggio, serve anche per progettare, pensare di sviluppare l'olivicoltura attuale.